Musica Padula, 12 bracconieri fermati per illecita caccia al cinghiale. Rofrano, ancora sospeso il trasferimento del servizio idrico al CONSAC, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell'autorità ambito SELE. Parco Nazionale Cilento, Vallodidiano e Alburni, con Odelia, dice, tanto lavoro da fare ma il territorio ha tante potenzialità. Montesano, 30 anni al servizio del caseificio Campolongo, la festa in onore di due dipendenti offerta dal titolare. Calcio, Valdiano, Debutto Amaro, il Tris del Nola, Piega e Blaugrana. Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Uno TV. A Padula, in area denominata SIC, cioè Sito di Interesse Comunitario, sono state fermate 12 persone in tende alla caccia al cinghiale. Ad operare le guardie zoofile e i guardiacaccia, locali impegnate nelle attività di controllo data l'apertura della stagione venatoria. Segnalati a Padula 12 bracconieri in tende alla caccia al cinghiale. I guardiacaccia e le guardie zoofile locali hanno individuato e fermato nella giornata di ieri 12 bracconieri, 11 residenti a Padula e uno originario di Napoli, intenti alla cacciagione di cinghiali in area SIC, quindi Sito di Interesse Comunitario, dove vige il divieto di introduzione di armi come da delibera del Comitato Europeo del 1996. I 12 fermati inoltre erano impegnati nella caccia al cinghiale, nonostante in questo periodo siano ancora chiuse e vietate le battute di caccia agli ungolati. La caccia ai cinghiali è infatti consentita nei periodi a partire dal 1 ottobre, solo nei giorni di giovedì e domenica, fino alla fine di dicembre, come ricordato dal calendario venatorio per la stagione 2016-2017. Per tale ragione le 12 persone individuate dalle guardie zoofile e dai guardiacaccia di Padula sono state fermate e segnalate dopo essere state condotte presso la locale caserma del Corpo Forestale dello Stato per gli accertamenti. Parte quindi con decisione all'attività di controllo effettuata dagli organi competenti e deputate alla prevenzione e alla repressione delle attività di bracconaggio, in particolare sul territorio delle aree protette. L'attività venatoria per la caccia al cinghiale è consentita, come detto, dal 1 ottobre fino al 31 dicembre, nei giorni di giovedì e domenica. Le aree SIC, come le zone di protezione speciale, pur non essendo equiparate alle aree protette, restano comunque aree soggette a regolamenti specifici in merito all'attività venatoria. Per questa ragione le province, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli organi riconosciuti e deputati al controllo sono chiamati ad intensificare le attività finalizzate alla repressione dei reati legati alla caccia e assicurarsi il rispetto delle regole e delle leggi emanate con il calendario venatorio 2016-2017 presentato lo scorso mese di maggio. E continua a Rofrano la battaglia per impedire il trasferimento del servizio idrico integrato al Consac S.p.A. Una battaglia che, grazie all'Avvocato Nicola Senatore, segna un punto a favore del Comune. Il Consiglio di Stato respinge infatti il ricorso presentato dall'Autorità Ambito Sele per mezzo dell'Avvocato Lorenzo Lentini contro la sospensiva decisa dal Tar. Altro punto a favore del Comune di Rofrano messo a segno grazie all'importante contributo dell'Avvocato Nicola Senatore che ha portato in giudizio le giuste ragioni per bloccare il passaggio della gestione del servizio idrico integrato al Consac S.p.A. Dopo la decisione del Tar Campania, sezione di Salerno, dello scorso aprile in cui veniva stabilita la sospensione del provvedimento per il trasferimento del servizio idrico, il Comune di Rofrano incassa un altro successo con il Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del Tar e ha concesso al Comune guidato da Nicola Cammarano di continuare nell'esercizio autonomo del servizio idrico. La soppressa autorità ambito Sele aveva presentato un ricorso al Consiglio di Stato per ottenere l'immediato trasferimento del servizio idrico del Comune di Rofrano al Consac S.p.A. ipotizzando un danno grave e irreparabile per il ritardo dovuto alla necessità di attendere la decisione nel merito del Tar fissata al 1 marzo 2017. Il ricorso è stato respinto dai giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato in quanto non è stata appurata la presenza del periculum in mora, cioè il pericolo o danno causato dal ritardo. Alle ragioni avanzate nel ricorso si è brillantemente infatti opposto l'Avvocato Nicola Senatore a difesa del Comune di Rofrano portando in udienza valide e chiare motivazioni che hanno dimostrato senza dubbio per il giudice del Consiglio di Stato che tale grave danno non è ipotizzabile. Soddisfatto quindi il primo cittadino Nicola Cammarano per il risultato ottenuto che gli ha dato ragione in ordine alla possibilità di sottrarsi ai meccanismi amministrativi dell'autorità d'ambito Sele e della Consac Gestioni Idriche per la gestione del servizio idrico. Il Comune di Rofrano, difeso dall'Avvocato Senatore, grazie a questa importante pronuncia del Supremo Giudice Amministrativo potrà quindi ulteriormente proseguire il suo progetto di gestione autonoma in conformità alla legge e nell'interesse dell'intera comunità rofranese. Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Viano, Raffaele Accetta, ha inviato nei giorni scorsi una lettera alla Regione Campania, all'Asl di Salerno, al Consigliere regionale delegato alla Sanità Coscioni per chiedere chiarimenti sul futuro centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e sulla sua appaventata chiusura e ha chiesto inoltre la possibilità di tenere un incontro istituzionale sulla vicenda. Ai microfoni di Pietro Cusati il Presidente Accetta ricorda come in circostanze simili bisogna rimanere uniti. Ascoltiamolo. Dopo che ne abbiamo parlato in conferenza dei sindaci di questo argomento perché avevamo ascoltato anche le dichiarazioni, interviste fatte da amministratori di Polla e una nota scritta dal sindaco proprio al direttore e al consigliere Coscioni. Quindi mi sono preoccupato a nome dei sindaci, perché appunto delegato dai sindaci, di inviare questa nota e chiedere chiarimenti in merito a questa preoccupazione, a questa apaventata soppressione del centro trasfusionale di Polla ma soprattutto per chiedere un eventuale incontro da fare a livello istituzionale con il consigliere Coscioni. Perché quando si tratta di difendere un presidio importante del territorio io credo che tra di noi ci debba essere unità e non divisione. Io ho colto nelle interviste un po' di preoccupazione, un po' di amarezza da parte degli amministratori di Polla ma anche probabilmente un po' di polemica politica e quindi ecco volevo evitare in un certo senso che sfociasse in una contrapposizione politica perché in questi casi noi dobbiamo essere uniti e non dobbiamo pensare a accusarci l'uno contro l'altro. Quindi mi sono adoperato su indicazione e sollecitazione da parte dei sindaci a fare questa nota. So che il consigliere Coscioni immediatamente ha contattato anche il presidente del Parco il sindaco di Sassano, dottore Tommaso Pellegrino, per tranquillizzarlo ma ha contattato credo anche Sergio Annunziata, il presidente della conferenza dei sindaci per tranquillizzarli su quello che sarà il futuro di questo centro trasfusionale. Però ecco io aspetterei che ci sia una risposta ufficiale o quantomeno un incontro ufficiale con tutti i sindaci per poter poi ecco eventualmente divulgare e riportare al territorio l'esito. Non si ferma l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel prossimo servizio vediamo quali sono stati i risultati in questi ultimi giorni. A conclusione del predisposto servizio coordinato del territorio dei comuni del Vallo di Diano teso al contrasto dell'illegalità diffusa e disposto dal comando provinciale di Salerno i militari della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina coordinati dal tenente Davide Acquaviva hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 43 anni residente a Sala Consilina. I militari hanno dato esecuzione nei suoi confronti all'ordine per la carcerazione presso la casa circondariale di Potenza a seguito degli accertamenti eseguiti in più circostanze dai carabinieri di violazione degli obblighi derivanti dalla misura alternativa alla detenzione e dell'affidamento in prova ai servizi sociali. I carabinieri di Bello Sguardo invece hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 57enne del posto trovato in possesso di un motociclo sprovvisto di targa e risultato provento di un furto denunciato nel febbraio del 2008 nell'Interland besuviano. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro penale a disposizione dell'autorità giudiziaria. A buon abitacolo infine i carabinieri della stazione locale hanno segnalato per uso personale di sostanza stupefacente quattro giovani tra i quali una donna sequestrando complessivamente circa 10 grammi di hashish. Nel corso dei controlli sono state identificate all'incirca 80 soggetti e 60 veicoli, sono state elevate contravvenzioni per circa 6.500 euro e sequestrate una patente e due veicoli. Un membro del Comitato Direttivo del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Viano e Alburni, Cono Delia, fa il punto della situazione circa lente. In attesa del primo incontro dei membri dell'Assemblea reso possibile all'indomani del decreto da parte del Ministro Galletti e nonostante tanti problemi da affrontare, quali ad esempio il piano del parco, l'emergenza cinghiali e la vicenda delle aree marine protette, dice che c'è tanta fiducia e tanta voglia di mettersi all'opera perché il territorio ha tante potenzialità. Ascoltiamolo. Gli impegni per la verità sono tanti. Abbiamo avuto dall'altra settimana il decreto, per cui credo che giovedì dovrebbe esserci il primo incontro tra noi rappresentanti dell'Assemblea. La settimana successiva dovrebbe esserci l'incontro di evento ufficiale. I problemi purtroppo sono tanti. Noi speriamo solo di metterci quell'impegno necessario per cercare di dare delle risposte serie e concrete ad un territorio che aspetta che il parco si trasformi da momento di vincolo ad opportunità. Il gruppo, io ritengo che il territorio sia ben rappresentato, ma non per la mia presenza, ma ci sono degli amministratori, ognuno di loro con una bella esperienza alle spalle, per cui credo che nei prossimi anni questo parco potrà dimostrare che non è stata un'idea di chi l'ha immaginato cattivo per il nostro territorio. Molte cose sono in cantiere, sono sul tavolo. La modifica, dobbiamo chiaramente, il piano del parco, che è uno strumento che andava bene dieci anni fa, ma adesso probabilmente è già superato. C'è la questione dei cinchiali, alla quale noi cercheremo di dare delle risposte anche compatibili con l'idea del parco, che non è soltanto l'eliminazione, ma anche la cattura. Quindi su questo ci andremo a spendere. Già credo che nei prossimi mesi verranno autorizzati dei centri di cattura all'interno dell'area parco. Quindi poi c'è la questione delle aree marine protette, anche lì un'altra questione estremamente seria, importante. Quindi saranno sicuramente tanti gli elementi, tanti momenti dove la nuova governance dovrà confrontarsi e misurarsi. Ho fiducia, ho fiducia perché questo è un territorio che ha grosse opportunità, grosse possibilità. A noi la capacità di fare sintesi, di lavorare in maniera collegiale, perché io ritengo poi, credo che il Presidente sia una figura importante, una figura per capacità, soprattutto anche per come interpreta il suo ruolo. Quindi su questo io credo che sicuramente nei prossimi anni questo parco dimostrerà che soprattutto attraverso la conservazione questo territorio potrà avere un futuro. Ieri grande festa presso l'azienda Campolongo a Montesano sulla Marcellana, in onore di due dipendenti che quest'anno festeggiano 30 anni di collaborazione con l'azienda. Sono quattro i dipendenti che seguono Catiello Gallo e la sua famiglia nella crescita della rinomata azienda casearia. Per l'importante traguardo ricco pranzo con asado e formaggi di produzione dell'azienda. Da 30 anni al lavoro presso l'azienda casearia Campolongo di Montesano sulla Marcellana, un traguardo che il titolare dell'azienda, Catiello Gallo, ha voluto festeggiare anche in segno di riconoscenza per quanto fatto a sostegno anche della crescita della stessa azienda. Ieri una grande festa con pranzo e degustazione delle produzioni casearie del caseificio. I numerosi dipendenti con le loro famiglie e gli amici erano presenti in questo evento di festa che ha rappresentato anche un grande traguardo, ancora più se si valutano i difficili tempi per il mondo del lavoro, dove la ricerca di un impiego, così come il mantenimento del proprio posto di lavoro, si sta trasformando in utopia. Eppure presso l'azienda casearia Campolongo di Catiello Gallo sono già quattro i dipendenti che hanno partecipato attivamente alla crescita e allo sviluppo dell'azienda, che ha iniziato la propria attività 38 anni fa. Dopo la prima festa organizzata per due dipendenti che sette anni fa hanno toccato il traguardo dei 30 anni di collaborazione con i fratelli Gallo, arrivati in organico a pochi mesi dalla nascita della stessa, costituitasi per volere di Catiello Gallo che aveva voluto continuare con la tradizione familiare e locale di lavorazione dell'arte, cercando anche di apportare notevoli miglioramenti attraverso la specializzazione in chimica casearia, ieri altri due collaboratori hanno festeggiato i 30 anni al servizio della famiglia Gallo. Una festa che ha fatto sentire anche a chi non vive quotidianamente l'attività aziendale lo spirito di collaborazione e familiarità che ogni giorno si vive all'interno delle mura. Per questo importante giorno, che può essere anche da stimolo per i nuovi collaboratori del caseificio Campolongo, Catiello Gallo ha voluto offrire ai propri ospiti il tipico asado argentino preparato da un ottimo asadorro di origini italiane, ma che per 50 anni è stato in Argentina dove ha preso la preparazione attenta e meticolosa del tipico asado, cioè carne, che sia di manzo, agnello o maiale non è importante, cotto alla brace intero e per diverse ore, offerto con una salsa particolare tipica argentina. A partecipare a questo pranzo speciale, conclusosi con il taglio della torta da parte dei due festeggiati, anche il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi. Questa festa sia particolarmente interessante perché coniuga questi due aspetti. La fedeltà di chi ha deciso di lavorare per un'impresa del territorio e quindi ha trovato nel titolare di questa impresa, nella sua famiglia, in generale nella squadra che gestisce questa struttura, ha trovato un punto di riferimento perché altrimenti non avrebbe resistito tanti anni. Quindi la fedeltà a un'impresa ha un obiettivo comune. Dall'altro lato, chi con coraggio oggi nelle nostre terre, terre di periferia, ma terre che possono dare tutto, soprattutto in questo settore, la zootecnia, ha deciso di investire e di investire tanto. Oggi raggiungere questo traguardo, secondo me, da parte del caseificio Gallo, significa proprio questo. È un segnale che poi viene dato un po' a tutte le imprese del territorio valdianese. È importante anche per un sindaco queste fedeltà. Io ho voluto partecipare, ho accolto l'invito in maniera spedita perché rappresenta davvero chi il settore privato è fondamentale per i nostri terreni. Ma senza la spinta del settore privato, nei settori strategici del nostro territorio, le nostre terre e anche le nostre famiglie viverebbero una crisi ancora più importante. Quindi noi come pubblico dobbiamo creare le condizioni giuste affinché il privato investa, investa in maniera produttiva certa e abbia un risultato notevole da poter spalmare sui propri dipendenti. E ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri in occasione della festa. Tra gli intervistati anche i due dipendenti che sono al servizio dell'azienda da 37 anni. La mia azienda è condotta quasi a livello familiare. C'è una familiarità con i dipendenti che è bello. Io ho già festeggiato due dipendenti sei anni fa che hanno fatto trent'anni di attività e adesso festeggio i secondi due. Il mese scorso hanno fatto trent'anni che sono con me. Io sono molto contento di queste persone e posso dire che questi quattro qua, i due festeggiati cinque anni fa e più questi due, sono coloro i quali hanno tirato il carro insieme a me. Quindi sempre vicini, sempre costanti e sempre con molto impegno. Trovare un giovane che si inserisce in un'azienda e con quelle idee di andare avanti in certi modi è un po' difficile. Sentite quindi questa azienda vostra? Eh sì, in un certo senso sì. Ci siamo cresciuti dentro proprio, io posso dire da piccolo. Da piccolo proprio, sì. È la stessa cosa anch'io. Comunque abbiamo vissuto una bella esperienza dopo tanti anni. Ringraziamo loro che ci hanno sopportato pure in tutti i modi. Siamo contenti di questo. Ringraziamo di nuovo loro e tutta l'azienda Campo Longo. Ho contribuito pure io nel mio piccolo, quello che ho potuto insieme ai miei colleghi. Proprio la crescita è stata dell'azienda. Fino a oggi che i trent'anni posso dire che stiamo festeggiando è una grande gioia per me. È la stessa cosa anche per me, comunque l'abbiamo presa come una famiglia. Lui come un genitore è stata una cosa bella e speriamo che è duri. Gli altri come noi fanno la stessa cosa, seguono le nostre urme che abbiamo fatto noi. Allora, 37 anni, ricordate il primo giorno che siete arrivati? Io sì. Cosa ricorda? Ricordo che venivo da Magorno con una vespetta, con una lambretta. Avevo 14 anni, appena finito la terza media, sono venuto qua dentro. Lei invece è il primo giorno? Io non sono venuto qua, aspetta sono venuto qua la macchina. Lei era già motorizzato? Era già sposato. Quanti anni aveva? 26. È una vita che non mi consiglio. Com'è come persona, Catiello? Una vita buona, una vita mamma. Siete orgogliosa di questo figlio? E come no? Ogni mamma crede che è orgogliosa. Però, insomma, ha fatto tanto per Montesano, quindi voi l'avete vista? Sì, sì. Siete stato vicino a lui? Sì. Adesso sperate che anche i vostri nipoti seguano l'esempio? Vengono pure loro, sì, sì. L'assado argentino è quello che funziona di più in Argentina. Insomma, mettiamo la salsa argentina che si chiama chimiciurri, che è tipico di là per tutte le carne. E dopo di avere, a me mi hanno portato, di un anno e mezzo lì, e sono vissuto almeno 50 anni lì. 15 anni che stiamo qua e 10 anni che stiamo facendo questa attività. Quindi 10 anni di attività, 10 anni che state portando l'Argentina nel Vallo di Diano. Hai apprezzato questo piano? Quasi in tutta l'Italia, di Sicilia fino a Como abbiamo visitato tanti paesi, anche in Germania e Portugallo. Facciamo anche il matrimonio. E adesso diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Prosegue il cammino verso la finalissima del premio Mia Martini di Bagnara Calabra per Belia Imparato e Angela Setaro. Le due ragazze valdianese hanno superato anche la terza settimana di voto, entrando nell'ultima e decisiva fase che vedrà solo 11 delle 20 voci rimaste in gara contendersi l'ambito premio Canoro. È possibile votare fino a venerdì 16 alle ore 16. Restano in gara Belia Imparato e Angela Setaro e sono giunte all'ultima settimana di selezione che potrebbe portarle alla finalissima di Bagnara Calabra. Le due giovani voci del Vallo di Diano sono riuscite a superare tutte le settimane di selezione fin qui, raggiungendo quindi l'ultima e fondamentale tappa. A partire da ieri domenica 11 settembre fino a venerdì 16 settembre è aperto il televoto per sostenere Belia e Angela che avranno così la possibilità di farsi conoscere e apprezzare in un evento di risalto nazionale dedicato alla grande e indimenticata cantante Mia Martini. In questi giorni è possibile ascoltare su Radio Medua, anche in diretta streaming sul sito internet, le canzoni in concorso e quindi anche le voci di Belia Imparato che interpreta la canzone Curami in gara con il codice voto 19 e la canzone proposta da Angela Setaro, Scelgo me e che può essere sostenuta digitando il codice 47. Le votazioni sono possibili fino alle ore 16 di venerdì. La scorsa settimana erano 40 le voci in gara che si sono ora ridotte a 20 finalisti. Ora ci sarà un'ulteriore riduzione per decidere le 11 voci che concorreranno alla finalissima. Saranno 15 in totale i cantanti che gareggeranno sul palcoscenico. Oltre agli 11 che saranno scelti attraverso il televoto, 4 saranno ripescati dalla giuria tra le voci escluse. Possibilità quindi di accedere anche per Francesca Melle di San Pietro Altanagro al momento fuori concorso. Intanto si prepara a raggiungere Bagnara Calabra già una giovanissima voce di Caggiano, la piccola Sabrina Lupo che ha superato la selezione del concorso Una Voce per Mimì e avrà così la possibilità di partecipare all'ultima selezione che sarà ad opera della giuria di esperti in occasione della serata prevista per il 24 settembre in piazza Gramsci. Sabrina Lupo è riuscita a superare le prime fasi di selezione grazie alla sua interpretazione del brano di Mina Mi sei scoppiato dentro al cuore. L'edizione 2016 del premio Mia Martini sembra quindi possa essere ben rappresentata dal Vallo di Diano anche se molto dipende dal territorio che dovrà rispondere con partecipazione al televoto per sostenere Velia Imparato di Sala Consilina con il codice 19 e Angela Setaro di Sassano con il codice voto 47. Mentre per Velia e Angela tutto dipende dal Vallo di Diano e da quanto saranno in grado di dimostrare la loro vicinanza alle due giovani cantanti, per Francesca Mele e Sabrina Lupo il loro prosieguo per raggiungere la finalissima del concorso dipende da una giuria che potrebbe decidere per il ripescaggio di Francesca Mele nella categoria Nuove Proposte per l'Europa e per il prosieguo della gara fino alla finalissima nella sezione Una Voce per Mimì di Sabrina Lupo. Si è concluso ieri l'Evoli Festival, l'evento musicale organizzato da Asso Music Art Group giunto alla quinta edizione che ha visto l'ultimo atto sul palco del Teatro Italia ad Eboli. Alessia Mazzariello di Sala Consilina ha ottenuto con la sua per tutta la vita la vittoria nella categoria giovani. Gli altri vincitori sono stati per la categoria inediti Vincenzo Dadda con La Nostra Storia per la categoria interpreti Nico Fortunato con Sei la vita mia. E passiamo ora al calcio. Nella prima di campionato il Valdiano esce sconfitto per 3-0 dal Nola. Gara a senso unico pagata l'emozione dei tanti giovani in campo. Pubblico delle grandi occasioni al San Giovanni di Sassano per la prima casalinga del Valdiano che esce però sconfitto per 3-0 per mano del Nola di mister Mauro Agovino. Squadra ospite in campo bene sin dalle prime pattute che domina in lungo e in largo e ci vuole un Villani formato super per ridurre e limitare il passivo almeno nella prima frazione di gioco. Infatti il portiere già difensore dei pali del Valdiano alcune stagioni fa si rende protagonista in ben diverse circostanze e qui invece viene salvato dal palo. Ma Villani è super poco dopo sul tiro di Russo che vediamo nelle immagini ci mette Iguantoni. Lo stesso Villani ancora più tardi riesce a neutralizzare il tiro di Dibiasi che imbeccato bene da un compagno non angola il tiro ma trova così i piedi dell'estremo difensore valdianese. Il Valdiano non reagisce e subisce i colpi del Nola che poco più tardi ci prova con Dibiasi ma ancora Villani a dire di no agli avversari. Poi la prima conclusione del Valdiano è a firma Salvitelli ma il suo sinistro è alto sopra la traversa. Arriva così poco dopo il fallo su Catalano ed è calcio di rigore per l'arbitro Mauro Di Agropoli che Dibiasi non sbaglia e firma l'1-0 per gli ospiti al 37esimo minuto. Prima dell'intervallo il Valdiano ci prova direttamente da calcio di punizioni con Salvitelli il cui tiro però viene toccato da vino e poi il palo nega il gol del pareggio. Si va così all'intervallo con il Valdiano sotto di una rete a 0 e con nessun cambio si presentano le due formazioni alla ripresa del match ma è subito il Nola a farsi pericoloso con Dibiasi che prova un pallonetto appena dentro l'area che va fuori poco dopo. Da calcio di punizione lo schema che porta Russo al tiro ma Villani smanaccia in calcio d'angolo. Più tardi l'ingresso di Simonetti rende ancora più pericoloso l'attacco del Nola e questi riesce a conquistarsi un calcio di rigore che viene fischiato e con se seguente ammunizione di Villani e viene poi trasformato da Dibiasi che segna la sua personalissima doppietta. ancora Simonetti si rende pericoloso più tardi siamo al trentesimo, questi fa tutto da solo a entrenare e poi a giro sul palo più lontano firma il 3 a 0. Nola in totale controllo con il Valdiano che invece può far poco contro l'estro e la velocità degli ospiti anche qui vediamo che Villani salva il 4 a 0. Si fa vedere invece il Valdiano più tardi quando ormai la partita è finita con il numero 7 Casella che dal limite prova la conclusione ma a vino la svanaccia in corner. termina così la partita che ha visto la sconfitta del Valdiano per 3 reti a 0 e il grande successo per il Nola che da neopromossa si aggiudica il match. E ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri al termine della partita al mister Manfredini e al mister Agovino che commentano la partita. È un 3 a 0 giusto non c'è niente da dire ho poco ad analizzare a livello tecnico e tattico oggi per me non c'è stato niente da parte della mia squadra quindi è giusto aver perso 3 a 0 è stata la prima parecchie hanno subito la prima gara l'hanno proprio subita quindi non si sono divertiti hanno giocato con paura non riuscivano a fare due passaggi di fila quindi giusto così dai dobbiamo ripartire per la seconda partita non c'è stato nulla dall'inizio alla fine già dai primi 5 minuti ho visto che il monologo sarebbe stato lo stesso abbiamo fatto veramente poco o nulla dobbiamo solo ripartire cancelliamo la prima noi partiamo dalla seconda partita ma no l'abbiamo preparata come pensavamo di averla preparata bene hanno risposto in tutto l'arco del precampionato dopo le poche partite abbiamo fatto anche in precampionato non hanno mai risposto in questa maniera qui hanno subito la prima gara l'emozione che non deve capitare l'emozione i più giovani ma anche i più grandi abbiamo fatto poco dai nulla nulla si deve ripartire sicuramente ci si è virata a lezione qualcuno pensava che era tutto facile invece nessuno dire gara nulla niente facile quindi se i propositi sono questi quindi sarà dura lo sapevamo già io lo sapevo già forse loro non lo sapevano da oggi forse anche i giocatori sanno a cosa andiamo in conto benissimo la prestazione il risultato perfetto contro un'ottima squadra ben organizzata che chiaramente non la scopro io siamo stati bravi a sfruttare le occasioni ma c'è stato il pallino del gioco della partita sempre noi sapevamo bene quelle cose a fare trovavamo sempre la soluzione migliore e forse il primo tempo chiudendolo 1-0 potremmo non poco ma tantissimo ricriminare per le occasioni sciupate secondo me c'è stata una grande reazione della squadra che mi aspettavo chiaramente giocando in casa davanti a un pubblico numeroso dove ci hanno cominciato a mettere difficoltà con queste palle lunghe troviamo difficoltà nel reparto difensivo con l'attaccante loro che è molto bravo spalla alla porta a coprire bene la palla e ci abbiamo messo tempo per poter poi ribaltare i risultati e chiuderlo con questo rotondo risultato ma noi ci siamo diciamo che un campionato ecco spumeggiante con il gioco attraverso il gioco attraverso le belle trame di gioco di geometrie vogliamo arrivare non ci siamo prefissati niente è chiaro che mantenere la categoria è la cosa più importante se poi possiamo fare come dicevo domenica scorsa possiamo fare qualcosa di più e stupire per essere la sorpresa del campionato benvenga continuiamo con il calcio a 5 Futsal-Claravì per il Futsal-Claravì K.O. nella prima di campionato di fronte ad un pallazzingaro gremito in ogni suo ordine di posto il Futsal-Claravì non riesce a regalare un successo al proprio pubblico ma è costretto ad alzare bandiera bianca al termine di un match dominato nel punteggio per oltre tre quarti di tempo la squadra di mister Rosciano parte con il piede giusto con Marciano e Tricca si porta solo 2-0 dopo il gol degli ospiti a firma Villani i padroni di casa allungano con le marcature di Bruzzese e D'Alto prima dell'intervallo l'infortunio dalla caviglia di Marciano i due gol della formazione ospite fissano il risultato sul 4-3 nel secondo tempo il trend della gara non cambia Bruzzese e Neves segnano il 6-3 al Futsal-Claravì che dopo aver subito il gol del 6-4 di Aquino ancora con D'Alto riacquista il massimo vantaggio sul 7-4 mancano a questo punto i 6 minuti e mezzo al termine del gioco e proprio in questo momento che inizia l'Ara Chiri il blackout del Futsal-Claravì che compie un vero e proprio suicidio Pinto, Aquino, Villani e un super gol di Aquino portano gli ospiti a raggiungere e scavalcare sul 7-8 i locali a un minuto e 55 dal termine Trinca direttamente da tiro libero riporta in parità il punteggio parità spezzata 50 secondi più tardi dal gol di Capobianco che regala la vittoria alla compagine beneventana e la seconda sconfitta dopo quella di Coppa Italia alla squadra del presidente Spinelli una condizione fisica ancora non eccellente per non dire approssimativa una gestione dei cambi abbastanza discutibile hanno fatto calare l'intensità del Futsal-Claravì che è apparso estremato negli ultimi minuti del match aggiungiamoci anche la cattiva gestione della superiorità numerica che non ha condotto ad alcuna segnatura un mix di situazioni che ha compromesso la partita e non ha regalato un risultato positivo ora testa bassa e lavoro per cercare già dalla prossima settimana i punti necessari alla salvezza con questo servizio si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti